Dalla battaglia contro il biodigestore di Talacchio a quella contro la discarica di riceci fino alla candidatura a sindaco di Vallefoglia. Andrea Torcoletti, presidente dell'associazione Diversamente che si batte da quattro anni per la tutela e valorizzazione della vallata del Foglia, si lancia ora nella sfida elettorale verso le amministrative dell'8-9 giugno presentando la lista civica indipendente Vallefoglia Cambia. La cosa che mi ha colpito di più in tutti questi anni è il distacco che esiste tra i cittadini, tra noi e chi ci amministra, tra noi e la pubblica amministrazione. Un distacco fatto di assenza di dialogo, di partecipazione, di confronto e a volte anche di rispetto. Noi in quattro anni non siamo riusciti ad avere un appuntamento con l'amministrazione di Vallefoglia. Ci hanno praticamente ignorato, forse pensando erroneamente che in questo modo avremmo mollato. Siamo invece qui oggi ancora più determinati a presentare un progetto di cittadinanza attiva che vuole avere un ruolo e uno spazio nell'amministrazione di Vallefoglia. I pilastri della nostra azione sono sicuramente la trasparenza e la partecipazione come diritti fondamentali, senza dimenticare la tutela e la salvaguardia della salute, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente ed anche della nostra qualità della vita. Un cambiamento che vuole partire dalla mentalità dei cittadini. E vogliamo soprattutto dare motivazione alle persone affinché tornino ad impegnarsi per la cosa pubblica. Non parlerò di liste, ma parlerò di metodo. Il metodo che noi vogliamo proporre è un metodo diverso, fondato sul merito, sulla competenza e sulla passione. Vogliamo che la gente venga e ci segua perché noi diamo una possibilità di cambiamento, perché noi rappresentiamo un'alternativa concreta, reale. Cambiamento che punta ad affrancare Vallefoglia da una dipendenza dal capoluogo di provincia. Vogliamo che Vallefoglia riduca la dipendenza da Pesaro, che Vallefoglia non sia e non diventi la periferia sfortunata di Pesaro. Com'è possibile questo? Questo secondo noi è possibile pensarlo, immaginarlo e costruirlo attraverso il coinvolgimento dei comuni confinanti, rivedendo, siamo qui oggi nella sede dell'Unione Pian del Bruscolo, proprio questo progetto, rivedendo il progetto dell'Unione che è diventato oggi poco più di una scatola vuota, con molte inefficienze, dei costi importanti e poca efficacia. Sabato 6 aprile sarà inaugurata a Montecchio la sede elettorale della lista civica. Deve essere un progetto aperto, aperto a tutti, a tutti i soggetti che a diverso titolo costituiscono il tessuto sociale di Vallefoglia. Deve essere aperto ai giovani, senza dimenticare agli anziani e senza lasciare indietro le persone fragili. Una forza che parta dalla gente e insieme alla gente vogliamo costruire un patto, perché pensiamo che se tutti noi, ognuno di noi, crede e continui a credere in questo, ci sarà un effetto moltiplicatore, non tanto di consensi elettorali, ma un effetto moltiplicatore di quelle che sono le emozioni, l'energia positiva che costituisce la base fondamentale su cui costruire una comunità.